Maria Teresa, aspetta, 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 devo andare di là ragazzi Luzuri allora qual è il messaggio che arriva da Torino? Piano 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 Permesso? Permesso? Scusami, 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 sto facendo io Assessore da scuola Scusami ma qualche spintone lo prenderai anche tu Ma che se si sente solo Scusami, fairly Abra, abra Non sia come un numero di faccia E in regione, c'è un ragazzo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti